La carovana per la giustizia, partita dal carcere romano di Rebibbia lo scorso 8 giugno, è arrivata in tour nella nostra regione, confermata nelle principali città delle province calabresi. Ieri ha fatto tappa anche nella piana di Gioia Tauro, prima fermata il carcere di Palmi e poi nel pomeriggio di ieri nella centralissima piazza della Repubblica a Pulistena. Promossa dal partito radicale, presenti in piazza anche gli ex deputati Sergio Delia e Rita Bernardini, radicali DOC, la carovana per la giustizia nasce con lo scopo di realizzare una raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'Unione delle Camere Penali per la separazione delle carriere in magistratura. Il banchetto itinerante ieri mattina si è fermato a Palmi presso la casa circondariale per una raccolta firme insieme alla Camera Penale all'interno del penitenziario. Quasi totale è stata l'adesione dei carcerati, almeno da quanto ci dicono gli organizzatori. Rita Bernardini nuovamente in Calabria per portare avanti una proposta di iniziativa popolare, la legge per la divisione delle carriere. Una legge fondamentale come partito radicale che ci ha seguito nei decenni sa che ci abbiamo provato più volte ad affermare la separazione delle carriere dei magistrati attraverso la via referendaria. Purtroppo nel 2000 quando si votarono i referendum che comprendevano la separazione delle carriere ci fu qualcuno che invitò gli italiani ad andare al mare per far saltare il quorum. Per cui da una parte vincemmo il referendum perché i sì furono tantissimi, il 70%, ma dall'altra il referendum fu invalidato perché furono troppo pochi, nemmeno il 50%, i cittadini che andarono a votare. Quindi fu soprattutto un problema di informazione. Adesso però noi abbiamo una realtà e cioè che nella nostra Costituzione all'articolo 111 c'è proprio scritto che il giudice deve essere terzo fra accusa e difesa. Avvocato Milica, le Camere Penali impegnate in prima linea per la raccolta delle firme, per la divisione delle carriere nella magistratura. Come sta andando e che clima c'è? Allora mi pare che vada bene. Stamattina siamo stati in carcere a Palmi, sono state raccolte adesioni massicce da parte della popolazione presente nel carcere di Palmi. Nel senso che su 157 detenuti hanno votato, hanno firmato per la proposta di legge costituzionale in 141 e chi non ha firmato è perché proprio fisicamente non ha potuto farlo perché era fuori dall'istituto per ragioni giudiziarie. In generale sento che sta andando molto bene, noi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo. Il tema è un tema antico, caro all'Unione delle Camere Penali. E' un tema cruciale perché si tratta di dare sostanzialmente attuazione a un principio elementare, secondo il quale non è possibile che appartenga alla stessa categoria il soggetto che accusa e chi giudica nel processo. Sergio Delia in piazza in Calabria a parlare di giustizia, di un progetto di legge per la separazione delle carriere dei giudici, ma non si rischia in una terra come la Calabria dove la magistratura ha un impegno importante di catalizzare gli interessi della malavita? No, non è questo esattamente il contrario. Io non mi rassegno al fatto che in questa terra non si possa fare impresa, non si possano creare posti di lavoro perché esiste la spada di Damocle delle indagini per mafia, per indrangheta. L'alternativa all'andrangheta non è l'antindrangheta, ma il lavoro, la possibilità per questa terra di poter produrre lavoro, creare posti di lavoro, nel rispetto della legge, nel rispetto dello Stato di diritto. Questa è una terra dove lo Stato sembra assente, se non in maniera emergenziale, in maniera militaresca, eccetera.